VAMOS! VAMOS RUGA, VAMOS! In classico non eravamo solo in blitz, ma non eravamo loote Non eravamo solo in blitz Non ricordo niente In queste posizioni Top Posizioni da ricordare Noi facciamo A6 Se mangià mangià Se mangià mangià G5 G5 Farà alfiere qua Noi possiamo fare Cavallo D7 Mangia mangià il cavallo La donna va qui In F6 Poi proviamo a fare A5 A4 Va bene, va bene, da una posizione giocabile Sera Buri Il resto quanto vince Allora il secondo siamo in 8 Il primo 300 Il secondo 100 Ah mettete la bete su quarti su che passa Si è vero mi sono scordato Se il mod è carico e bello bollente Se mi mette la bete su quarti mi fa un favore Se non c'è pazienza Avete ragione, avete ragione Sono completamente dimenticato la bete GG Possiamo dare un scapto qua Ma se vediamo lo scapto qua Oh no Se non c'è più Se non c'è più Se non c'è più Se non c'è più Non c'è più Se non c'è più Se non c'è più Se perdiamo questa Easy le bete L'abbiamo in 5 4 Ah se non c'è più E' successo Noi abbiamo in 5 Allora Ok, facciamo torre qua, cerchiamo di giocare sulla B E mangiamo, tipo mangia E quando sposto il cavallo mi fa questa Questo è il problema del moro qui E noi comunque dobbiamo muovere il cavallo E su questa preghiamo, raga Mangiamo e preghiamo, ma non gira Questa posizione non gira, lo dico subito Scacco, no Eh, su questo scacco è tosto, raga Questa l'abbiamo persa Questa l'abbiamo persa Sì, questa è persa, raga Questa è persa Sì, 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 vai tra Questa mi sa che è persa Dobbiamo fare qualcosa di pazzesco per recuperarla O semplicemente è persa e dobbiamo abbandonare Così, 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 così Così Boh È la nostra unica speranza, ma mi farei A1 Una speranza fa sulla Vabbè, proviamoci Ci crediamo, raga Facciamo questa e preghiamo Ecco, portiamo re di qua Non è che ne abbiamo molte Se lui si difende da questo attacco ce ne sono mille di difese, credo Anche questa penso basti per vincere Quindi se lui si difende dal mio pseudo attacco abbandoniamo Se per culo lo non si difende GG Ma possiamo muovere la torre e minacciare matto, eh Ma in realtà non è così Ma è persa Però scusa, se io adesso faccio una mossa tipo questa Sì, come si difende dal matto Non mi piace Mi piace Dai, letta Fermi, raga, che li abbiamo girata Come si difende da questo e questo? Non è sì Non è adesso invece come dieci problema No, non è una fernia a tre E poi e prograno можете оказаться соблазн какой-то если хоть что-то попытаться сделать чем времени маловато вечный шаг поставить дан абсолютно было выиграно естественно да но не идет не идет не идет во всем было не ладей в 7 на какой-то любой другой выход который выигрывал ну ладно не в этот раз